C'è chi ha dormito in auto per arrivare tra i primi negli uffici di Equitalia, la rottamazione delle cartelle entra nella fase calda. Rabbie e proteste anche in campagna, dove migliaia si stanno accalcando nelle sedi della società di riscossione per multe stradali, bolli auto e variegati e sconosciuti importi, oltre che sanzioni per errori nelle dichiarazioni fiscali che vorrebbero rottamare con pagamenti diluiti e senza interessi. Un'occasione che nessuno vuole sciupare, ma i servizi online vanno a singhiozzo e le file negli uffici sono davvero insostenibili. Ci sono altre zone che è ancora peggio, peggio peggio di Avellino. Sono delle persone che dormono addirittura in macchina di notte per poter arrivare la mattina, perché poi già chiudono ad un certo orario e quindi chi è dentro va bene, altrimenti chi ha fatto comunque la fila fuori deve andare via senza poter risolvere niente. Accade negli uffici di Avellino come in quelli di Napoli, presi letteralmente d'assalto. Inoltre da oggi ci sono a disposizione anche i CAF per rottamare le cartelle. C'è una burocrazia farraginosa e questa è già la terza volta che vengo qua. E i servizi online che hanno messo in funzione non vanno. Vai sul sito di Equitalia e non ti faccio dare niente. Da stamattina alle sette e mezza adesso ho finito, sono le dodici e ventinove, quindi non aggiungo altro, diciamo così. Si protesta dalla lanzeta e l'Italia protesta tutta, perché loro sanno delle nostre situazioni, basta mandare una lettera in tempi non sospetti a casa di ognuno di noi e dire guarda che tu hai questa situazione. Il termine prefisto ancora oggi è del 31 marzo, potrebbe essere prorogato fino al 21 aprile con un provvedimento del governo.